che interessa è quella delle parallele asimmetriche perché c'è la risposta a Rebecca Andrade da parte di Jed Carrey salita alla verticale, piantata a caccio fa gamba aperta cambio aperto bello, originale passaggio dallo stagio basso allo stagio alto, un salto opaco al centro con un avvitamento Shapochnikova come dicevamo anche al volteggio non è proprio precisissima nelle sue esecuzioni Zucara la parte più bella e più pulita è stata la fase finale, brava perché ha portato a termine indubbiamente